Recentemente sono pervenute al circolo del Partito Democratico Libertà diverse segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi con le colonnine di ricarica pubbliche. Alcune di esse non erano disponibili, altre avevano problemi tecnici che ne impedivano l'utilizzo, mentre in altri casi i tempi di attesa erano troppo lunghi. Abbiamo ascoltato il segretario del circolo Libertà Giancarlo Larocca e la replica dell'assessore in merito Ettore Garozzo. Abbiamo avuto segnalazioni degli utenti che utilizzano veicoli elettrici che ultimamente è sempre più difficile di trovare un punto di rifornimento, almeno elettrico, almeno per ciò che riguarda quelle fornite dal comune. Dopo ci sono quelle private che funzionano benissimo, però quelle che funzionano per conto del comune ultimamente sono pochissime. Noi abbiamo fatto una ricognizione e su una quindicina di impostazioni elettriche, soltanto due funzionano. Abbiamo subito attivato, in realtà erano già stati attivati gli uffici per verificare quale potesse essere il problema. Abbiamo, assieme all'ingegnere Dell'Ultri e all'assessore Rando, ci siamo visti, ci siamo confrontati sul problema e abbiamo contattato la SIS, la quale ci ha detto che il problema è dovuto, il problema che peraltro si ripercuote su quattro colonnine di quelle presenti in città è dovuto al malfunzionamento delle sim delle colonnine stesse, le quali non consentono il perfetto funzionamento delle stesse. Queste, se non sono sim comuni ovviamente, verranno sostituite, ci ha detto, la SIS entro la stessa settimana in corso, altrimenti al massimo entro l'inizio della settimana entrante.